Benvenuti cari distributori, oggi sono ospite di Cristiane Bremer, manager nella bella Monaco a Schwabing. Qui da te siamo nel cuore della città, ma nel mezzo del verde nei pressi dell'Olimpia Park. Da quanto tempo abiti qui? Sì Susanne, grazie per essere qui. Vivo qui dall'aprile del 1998, sono venuta qui verso Monaco dopo essere passata per Bonne e Vispan. È l'amore che mi ha portata qui ed è qui che ho piantato le mie radici. Sono una sorta di forestiera, diciamo. Ok, e come sei arrivata a Forever? Qui devo prenderla un po' alla larga. Dunque, ho conseguito il mio primo diploma professionale come economista. Lì ho fatto consulenza aziendale nel settore delle assicurazioni e delle banche e 15 anni fa ho realizzato il mio sogno. Il mio primo sogno, ovvero portare con me il mio piccolo Dusty, un piccolo terrier. Ed è lui quello che ha dato origine al cambiamento della mia vita. Era malato e quindi ho studiato neuroterapia veterinaria pur continuando a lavorare. Ormai è da otto anni che lavoro in questo settore e sono molto contenta. Gestisco un ambulatorio ambulante per cani, gatti e cavalli. Tratto tutte le malattie acute e croniche con metodi neuropatici provati. Nello specifico l'omeopatia e l'agopuntura, secondo la medicina tradizionale cinese. Il mio focus è la terapia dei principi vitali, alla quale riesco ad integrare molto bene i prodotti Forever all'interno dell'ambulatorio. Suona molto interessante. Credo che probabilmente tu lavori molto con l'Element Touch che abbiamo introdotto all'inizio dell'anno. E ci sono prodotti che ti stanno particolarmente a cuore? Sì, beh, in maniera particolare sicuramente l'aloe vera. La composizione di sostanze nutritive, vitali, ottimale dell'aloe vera pura. Basta versarne un piccolo sorso nel mangime ed è fatta. È eccezionale come integrazione. Ora devo chiederti una cosa molto apertamente. Anche il mio cavallo beve l'aloe vera, ovviamente. Ha un pelo incredibilmente lucido. Dipende da quello, vero? Sì, è un grande contributo. Esatto, bene. Esatto. Per l'uso esterno preferisco invece l'aloe vera Propolis Cream. È formidabile per le zampette dei cani, per proteggere semplicemente dal caldo, dall'asfalto cocente e dall'estate appena conclusa. E in inverno come protezione dal sale e dal freddo. È sì, una crema dalla consistenza grassa, ma non contiene acqua, dunque previene dal congelamento. E in ultimo, un prodotto veramente fantastico per me nel mio ambulatorio è il sanitizer. Noi qui abbiamo molto a che fare con germi e batteri. Per disinfettare basta metterne un po' sulla mano e spalmare un po' e sono già pronta per il prossimo paziente. Esatto, ottimo. Com'è la tua settimana di lavoro normale? Ah, Susanna, è normale. Diciamo che nel mio caso è da lunedì al mercoledì in ambulatorio. Alle otto arrivano le prime chiamate, faccio i ritocchi delle cartelle e poi si comincia. Alle nove e mezzo iniziano i primi appuntamenti fino alle venti, nelle tre giornate. Ecco, diciamo che il programma da portare avanti è bello intenso. Esatto, ambulante significa proprio che mi reco sul posto. Ma visto che non giro così tanto, ho tre punti di appoggio. Uno ormai da tempo a Reichertzofel, vicino a Ingolstadt, uno da un'amica a Trudering e da poco anche a Hundemax, nei pressi del castello di Freyham. Ovviamente in tutto questo tempo Forever è sempre con me, sia per i prodotti che uso oppure anche solo le persone che mi fanno delle domande durante la terapia. Ci sono molti padroni di cani che dicono, cavoli signora Premere, il mio cane sta molto meglio di me, posso prenderlo anch'io? E da lì nasce il discorso, oppure ovviamente anche quando i membri del team mi chiamano durante l'orario. Quindi diciamo che da lunedì al mercoledì non mi dedico esclusivamente al laboratorio. Bensì Forever ha un ruolo importante nel corso di tutta la settimana e da giovedì invece mi concentro di più su Forever fino alla fine della settimana, sulla costruzione del team per andare avanti più velocemente. Sì, lo vedo già dal tuo appartamento. Ovunque mi giro non ci sono posti che non accennano a Forever. Ci sono sette prodotti dappertutto in casa tua. Si vede veramente che Forever ha cambiato la tua vita in maniera rilevante. Come esattamente? Vuoi dirci qualcosa in merito? Sì, beh, da una parte prima lavoravo in ufficio, ora sono flessibile. Mi sposto sempre, sono mobile anche nell'amburatorio e con Forever. Il lavoro con gli animali mi diverte incredibilmente. Questa è la mia vera realizzazione personale. e rimango sempre molto colpita di quanto un essere così piccolo o più grande, nel caso dei cavalli, possa realizzare. E Forever mi offre anche la possibilità di offrire alle persone non solo una prospettiva in tema di salute ma anche economica. E questa è una cosa veramente fantastica. Ci sono prodotti con i quali hai iniziato, che hai utilizzato all'inizio? Allora, nella nostra famiglia, io, mio marito e i miei cani abbiamo iniziato veramente con poco. La mia aloe vera, qualche prodotto per la cura, ma devo dire molto sinceramente che non ci sono prodotti che non uso qui. Come tu stessa hai già detto, casa mia è piena di prodotti di Forever. Ma ovviamente ci sono dei prodotti in particolare con i quali ho iniziato. Come abbiamo già detto, con l'aloe vera e con la Propolis. Ma ci sono anche prodotti che mi fanno del bene. Per esempio, aloe vera Freedom, Active Ha, che favorisce anche la mia agilità. Lavoro tanto e quando sto con i cavalli devo stare in piedi molto. Ma di solito mi metto vicino agli animali per terra ed è lì che avviene anche il trattamento. Devo potermi muovere. Non solo la mattina con la ginnastica e qui ovviamente la Heat Lotion è assolutamente determinante. È il mio prodotto preferito in assoluto. Per me come donna, non potendo usare troppo profumo, è la Relation Massage Lotion. Delicato sulla pelle, ha un profumo eccelso e anche gli animali lo accettano, il che per me è molto importante. Cristiane, per questa prima parte posso dire che mi ha fatto molto piacere. Ci troviamo ora all'aperto, nel verde, e mi fa ancora più piacere conoscere i tuoi tre uomini di casa. Ce li presenti? Certo, molto volentieri Susanne. Lui è il mio adorato marito, Peter. Questo è Acchi e questo è il nostro Dusty. Ottimo. Ora che vi vedo così tutti e quattro insieme, posso solo dire che Forever ha cambiato in meglio la vostra vita. Non è così? Sì, Susanne, hai ragione. Forever è ovunque, non solo in casa nostra e nel cuore, ma anche dal punto di vista lavorativo, ci offre una prospettiva veramente incredibile. Peter è appena diventato Assistant Manager. Sì, lo vedo dal PIN. Esattamente. E io sto lavorando per diventare senior, ecco, quindi qui il mio futuro manager. esatto, e Forever è qualcosa di meraviglioso sia dal punto di vista della salute che economico. Io credo che anche in questo senso ognuno abbia dei sogni e dei progetti. Vuoi raccontarceli? A te volentieri. Dunque, il nostro sogno è quello di aprire un centro terapeutico per gli animali e per le persone. A sud, sud-ovest di Monaco. Il tutto con una vista sulle montagne favolosa e per fare questo c'è bisogno di un po' di sostegno economico. Ed è quello che stiamo facendo con Forever. Ci stiamo veramente impegnando tanto per poter realizzare il nostro sogno. Suona molto interessante. Beh, sud-sud-ovest è un po' in direzione del nostro castello. Molto bene. A tale proposito, auguro a tutti e quattro tante belle cose. In bocca al lupo per questo obiettivo e per questo sogno. E a voi due, ovviamente, grazie veramente di cuore per questa piacevole ed interessante conversazione. Mi ha fatto molto piacere. Buona fortuna. E noi ringraziamo te e anche Forever e grazie per essere stata con noi. Grazie.